Sì, sì, lo so, questo hai detto tu, Poldinone, questa partita è molto importante per noi, se noi vogliamo salvarci, abbiamo vinto questa partita contro Poldinone, io penso che stiamo lavorando bene, io penso a venerdì e c'è il risultato bene per noi. No, per me naturalmente, avanti di difensare mi senti molto libero, perché mi fai un sacco di movimento, mi senti molto libero per giocare, ma se è un momento di difficoltà, mezzale pure ce la facevo. Se io penso a me, personalmente sto bene perché sto lavorando a casa, se facciamo l'allenamento qua, se vai a casa fai un'altra cosa in più, io penso per me, penso io sto bene, per gli altri io penso pure loro stanno bene, perché se vedi allenamento, intensità, pure loro stanno bene. Per me, di tutti i punti, mi piace di più, ma se io voglio stare più calmo, tranquillo, naturalmente avanti di difensore, ma dietro le punte posso fare pure gol. Sì, secondo me, se noi vogliamo salvarci, dobbiamo fare gol, io penso che dobbiamo migliorare più in avanti là. No, 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 questo io devo dire, il mio lavoro è importante che devi lavorare solo in campo e la scelta a fare miste è importante che io devi lavorare solo lavoro e pensare lavoro. Questo è. Grazie. 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 Grazie.